Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione nordafricana continua ad essere la protagonista indiscussa del tempo in Italia e porta tanta stabilità da nord a sud con un clima asciutto e temperature sempre particolarmente elevate. Vediamo nel dettaglio la mappa delle nuvole, abbiamo giusto qualche annuvolamento di passaggio ma di fatto il clima rimane asciutto ovunque, le perturbazioni per il momento transitano a nord verso l'Europa centrale. Più nel dettaglio quindi del tempo che ci aspetta sul nostro territorio, avremo una giornata all'insegna del sole praticamente ovunque da nord a sud con giusto qualche annuvolamento pomeridiano sulla cerchia alpina ma anche lì il clima di fatto sarà asciutto, temperature particolarmente alte, insomma inizia a fare molto caldo con punte anche vicine ai 35 gradi se non oltre specie sulle interne toscane ma anche sulla Val Padana qui sarà anche là a farsi sentire nelle ore sterali oltre che lungo le coste anche nei grossi centri urbani. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.